Quarto video dedicato ai prodotti Paper Blanks. Qui descriverò due taccuini e due agende. Per i dettagli generali su Paper Blanks e la prova di scrittura sulle carte adottate nei vari modelli, vi rimando al primo video della serie. Questi sono i modelli che vado a descrivere appunto in questo video. Partiamo immediatamente con il modello Augie, forse la pronuncia è Augie, sinceramente non lo so di preciso. Comunque, si ispira alla tecnica maquie del periodo giapponese Edo e Meiji. Si tratta di una tecnica di pittura e laccatura impiegata per decorare oggetti di varia tipologia, talvolta impiegando anche metalli preziosi come oro e argento. Questo disegno ricalca la decorazione di una scatola realmente esistente e custodita in una collezione privata. Il nome Oji si rifà ad una tipologia di ventagli giapponesi. L'ho portato più volte sulla copertina. Questo è il fronte, qui abbiamo il dorso e il retro sostanzialmente lo stesso disegno o perlomeno molto simile. È una cosa da dire importante perché questa copertina in realtà in foto, sul sito dove viene induta, non si comprende bene quanto sia bella, quanto sia dettagliata e soprattutto io pensavo fosse semplicemente stampata e liscia. Invece no, c'è una parte di fondo da nero con questi puntini dorati ma tutto il resto è in rilievo. I ventagli sono in rilievo, peraltro a più livelli. Qui si alza il livello e dove ci sono le tartarughe in questo punto si alza ancora. Anche questa parte qui è in rilievo, anche questo ventaglio e qui c'è ancora il rilievo con queste foglie e quest'altro motivo in questo punto. Davvero, davvero pregevole. È un qualcosa che appare bello agli occhi ed è anche al tatto, devo dire, che fa la sua bellissima figura. Il formato in questo caso è midi con carta a righe, disponibile anche nelle varianti con carta bianca e in misura mini. Lo spazio fra le righe è di 6,67 mm. Le misure sono 13x18 cm, sono 144 pagine con carta da 120 grammi al metro quadro, certificata FSC. La copertina è rigida, la legatura a filo smith, quindi sono più quadernini legati insieme, cuciti insieme, su un dorso flessibile. Ora in questo caso non è stato quasi mai aperto, soltanto per verificarlo, e quindi non si apre benissimo. Però comunque vi garantisco che questi tacchini hanno normalmente una buona apertura. ecco, andando un pochettino a invitarli, a forzarli un po', funzionano benissimo. Abbiamo, oltre alle normali pagine, qui parte direttamente, non ci sono pagine di servizio, in fondo c'è la tasca dei ricordi, con la possibilità di inserire fogli sfusi, biglietti da visita, insomma quello che vogliamo, e il, questo qui è l'elastico per la chiusura, e il segnalibro, un singolo segnalibro. Davvero un volume particolarmente bello, mi piace tanto. Mettiamolo ora un pochino qui da parte e andiamo a descrivere questo che è il Genesis. Questo volume appartiene alla collezione che si ispira ai più importanti libri religiosi, tra i quali ovviamente la Sacra Bibbia, i primi di grande diffusione, grazie alla stampa a caratteri mobili di Gutenberg. In particolare questa copertina riproduce una pagina miniata creata dall'artista tedesca Gisela Maschmann, del libro della Genesi di Gutenberg. È disponibile nei formati ultra, midi e slanciato, comunque sempre con carta a righe. Questo è il formato midi, 13x18 cm, sono 144 pagine da 120 grammi al metro quadro, carta senza acidi, certificata FSC, proveniente da Forester, gestita in modo sostenibile, lo spazio tra le righe, anche in questo caso di 6,67 mm, pagine a righe. Legatura a Filosmith come nell'altro caso, un altro taccuino appena visto, sono più quadernini cuciti insieme, più segnature cucite insieme, e fissate su un dorso flessibile. In questo caso però abbiamo una chiusura magnetica. In questa parte viene riportata anche la parte della copertina sottostante, particolarmente comoda, devo dire che è una soluzione davvero interessante. Ha il segnalibro, anche in questo caso, e la tasca dei ricordi in fondo. Però ora vediamo un pochettino in dettaglio la copertina. Anche in questo caso la copertina è molto più bella dal vivo di quanto non appaia sul sito, nelle foto dove viene venduto Genesis, qui scritto in grande. Innanzitutto è in rilievo. Questa parte che dovrebbe essere, pensavo fosse completamente liscia, invece è come se fosse sporcata, un pochettino ruvida, e tutti questi disegni sono assolutamente in rilievo. Anche la scritta qui è completamente in rilievo, veramente bella, ben fatta. Questa riporta proprio la parte iniziale del libro della Genesi. Si può, anche magari nel modello ultra, che è più grande, si potrebbe leggere meglio, comunque si riesce a leggere un pochino. In principio, Questo è il latino. Poi più avanti, qui sotto, Fiat Lux Et Facta Et Lux Praticamente, insomma, la traduzione in italiano è In principio Dio creò il cielo e la terra, ora la terra era in forma e deserta. E poi Fiat Lux, in pratica, Dio disse sia luce e la luce fu. E' assolutamente una cosa straordinaria tutte queste parti in rilievo, questi disegni ben fatti, con un livello di dettaglio incredibile. Questo è il dorso del taccuino, un dorso veramente bello, anzi, a questo punto per vederlo meglio, qui dietro riportare la copertina, ma in versione come se fosse zoomata, diciamo un pochettino più grande. Questo lo vado a rimuovere perché questa copertina deve essere assolutamente ammirata nella sua interezza e quindi ritengo che questa etichetta descrittiva possa essere tranquillamente rimossa. E' molto più bello vederlo così interamente e mi è venuta voglia, sinceramente, di acquistare anche altri volumi di questa serie dei libri storici molto, molto belli. Mi piace davvero tanto. Andiamo ora più avanti e descriviamo le agende. Le agende sono delle agende del 2022. Le ho prese con un prezzo molto scontato, praticamente a un quarto del loro costo, invece della metà, perché le ho prese nel mese di giugno, cioè quindi mezz'anno è passato, costranno la metà. Invece no, la politica di molte aziende, non solo di Piero Blancs, è quella di farla a un prezzo particolarmente basso. In pratica sono venute circa 4 euro l'una, 4,49 mi pare questa, e 3,74 questa qui. Insomma, costano davvero poco. Probabilmente non le userò neanche come agende, perché ne ho già altre, ma le ho prese per due motivi. Il primo è per vedere se è possibile scriverci sopra anche in maniera più o meno libera, senza seguire la struttura dell'agende. Usarle, insomma, ovvio possibile come taccuini, per liste della spesa, appunti varie, ma anche per dare ai bambini per giocarci, disegnarci. Insomma, un po' l'uso dell'agende che a volte si faceva in passato con quelle che ti regalava la banca, la compagnia di assicurazioni, ti ritrovavi in casa con dell'agenda in più, e le usavi semplicemente per scriverci sopra, senza seguire la struttura interna. E poi è un buon modo per guardare in dettaglio, osservare e analizzare le copertine, e magari valutare se in futuro sia il caso di acquistarle anche sotto forma di taccuini. Iniziamo con il sentiero dorato, e a proposito, queste agende sono disponibili nel formato orizzontale, verticale e verso. Quando le ho prese erano rimaste soltanto queste nel formato verso, e quindi ho preso queste qui. La copertina, vediamo anche qui il dorso, il retro è sostanzialmente identico, questo è l'elastico per la chiusura, la copertina riproduce quella di un libro di perghiere in tedesco, una guida all'Eucaristia, stampata originariamente nel 1568 a Norimberga. Il formato è midi, 160 pagine con carta da 100 grammi al metro quadro, anche qui priva di acidi, certificata FSC, rilegatura a filo smith e il segnalibro, anzi queste qui hanno due segnalibri, uno di colore rosso e uno di colore dorato, questa è la rilegatura, vediamo un pochettino in dettaglio, e questa è la struttura interna, qui abbiamo la pagina di presentazione, delle pagine di servizio nome e cognome, alcuni dati personali, se vogliamo metterli, il calendario del 2022, le festività internazionali, sempre del 2022, qui delle pagine note libere, e qui c'è il calendario mensile, ogni pagina è relativa a un mese, è carino perché è riportata anche le fasi lunari, bene, qui ancora delle pagine libere, e poi il cuore proprio dell'agenda, abbiamo tutti i fogli in cui ogni coppia di pagine, ogni visione è di tipo settimanale, in pratica abbiamo tutti i giorni della settimana, qui a sinistra una riga per ogni giorno, e qui a destra abbiamo una pagina libera, anch'essa riga, con il calendario in fondo, in pratica si può tranquillamente usare, per scrivere quello che vogliamo, al pari di un tacquino, e se decidiamo di non usarla come agenda, anche qui nella pagina a sinistra, si può tranquillamente usare in questo modo, vediamo un po' la parte finale, qui abbiamo il calendario 2023-2024, in forma compatta, le festività internazionali del 2023, anche qui lo spazio libero in cui scrivere, va bene, ancora 2023-2023, e quindi l'anno successivo i prefissi internazionali dei vari paesi, i prefissi telefonici, qui il fuso orario, in pratica le time zones delle città più importanti del mondo, delle tabelle di conversione per le misure, la temperatura, gradi Celsius e Fahrenheit, un'indicazione veloce insomma sui viaggi intrapresi, le vacanze, le date importanti, i compleanni e le date importanti, qui abbiamo delle pagine libere per prendere delle annotazioni, sono insomma diverse pagine particolarmente utili, ed è bello, insomma, cioè effettivamente è completo, c'è un po' tutto, questa è la descrizione della copertina, e qui abbiamo, questo è particolare perché nelle agende, abbiamo sì la tasca dei ricordi, ma nella tasca dei ricordi è inserito questo libricino, in pratica è una rubrica telefonica, in cui possiamo segnarci insomma i numeri delle persone con cui entriamo in contatto, e qui ci sono anche delle pagine libere, è davvero utile, questa in questo caso è incastrata all'interno della tasca dei ricordi, ma noi possiamo anche staccarla e utilizzarla come vogliamo, diciamo in piena libertà, un prodotto decisamente completo, arriviamo ora a descrivere quell'altro, qui possiamo tranquillamente richiuderlo, questo è Gatti Mediterranei, un'agenda anche in questo caso in formato verso, questa copertina ha un'origine più recente rispetto alle altre, e rappresenta un dipinto dell'artista americana Laurel Birch, che nella sua forma originale è stato realizzato usando la tecnica dello smalto cloisonné, il formato è mini, piccolino, 10x14 cm, sono 160 pagine con carta da 100 grammi, questo vediamo un po' all'interno, sostanzialmente è come quell'altro, molto completo con tutte le pagine di servizio all'inizio, la visione settimanale con due pagine, anche in questo caso abbiamo due segnalibri, uno dorato e uno rosso, legatura a filo smith, pagine di servizio, calendario, anche in questo caso alla fine, i prefissi telefonici, tabella di conversione, prefissi telefonici, fusi orari, e anche in questo caso nella tasca di ricordi è stata inserita la rubrica telefonica per segnare i numeri delle persone che incontriamo e che vogliamo comunque ricordare. Davvero carino. Questo è il quarto video dedicato ai tacquini per Blanks e mi sono preso anche la libertà di descrivere un paio di agende che magari possono risultare utili a voi se volete comprare, non dico queste del 2022 perché credo che ormai siano già in vendita quelle dell'anno successivo, però avete un'idea di come siano realizzate queste agende. Io spero di aver fatto una cosa gradita con questo video, a questo punto vi saluto e però magari prima vi faccio vedere un piccolo bonus. Ed ora il bonus, un piccolo spezzone video sull'intera mia collezione di tacquini i paperblanks. Questi sono i paperblanks fino a questo rosso, di qua invece sono Peter Power Press e Flametrita, quindi di cui parlerò in un prossimo video. Ma andiamo con ordine. Questo è il modello grande, questo qua è il notturno, qui abbiamo il Riviera, che è un modello ultra, qui invece abbiamo 20.000 leghe sottimari di Jules Verne, questo è il silice bianco, Flexis, comunque sono tutti modelli ultra questi qui, questo qua è il Lindau, questo è sempre il Lindau, ma in versione Flexis e Midi, questo è il Ribelle di Mezzanotte, sempre Flexis e Midi, questi sono tutti quanti i Midi, dal rosso fino all'indau, è il formato che prediligo anche per poterli portare in giro. Questo qui è Oji, giapponese come copertina, come ispirazione, questo qua è il Genesis, questo è Zara, Duomo, la Fata Oliva e le sorelle Bront. Saliamo in alto, dove troviamo Alice nel Paese delle Meraviglie, questo qui è Dracula, queste sono le due agende, Gatti Mediterranei e Sentiero Dorato, poi i due slanciati, che sono il Trifoglio Dorato e Azzurro. Di nuovo una visione di insieme, magari da distanza, a modo da vedere la collezione nel loro interesse. È una collezione, insomma, secondo me è buona, accettabile, sono un buon numero di volumi. A questo punto vi saluto con questa immagine. Ciao a tutti, a presto.